Pronti? Via! Su un mondo basca che non è neanche perpendicolare, ma obbligo, quindi ulteriore difficoltà per noi. E vincolo i delzini! I delzini e lea sono i vincitori di questa bellissima sfida. Possiamo dire di aver scritto una pagina della storia del moto oggi qui a Zomarin, quanto meno per l'originalità di questa bellissima sfida. E' un po' di divinità senza dubbio metterlo in cui abbiamo assistito oggi. Ringraziamo Filippo Manini, il campione nazionale di moto. Grazie! Applausi! 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 Ciao a tutti! Applausi! 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 Che comunque abbiamo appena iniziato a allenarci! Ringrazio a tutti! È stata una bellissima esperienza! Questi delfini sono fantastici! È un'emozione nuotare con loro! ovviamente degli avversari così veloci non li ho mai avuti, quindi era veramente impossibile battere, però ci abbiamo provato e voglio fare complimenti e ringraziamenti a tutte le persone che lavorano qui al Don Marine perché sono veramente delle persone che amano gli animali e ci tenevo a fare un presente, quindi ciao a tutti e buon spettacolo!